Una nuova esperienza, sono molto motivato, con i compagni già un buon rapporto, per fortuna comunque 4-5 già li conoscevo perché vengono con me dalla Roma, quindi bene. Ho fatto il primo anno fuori in Serie C, ho comunque trovato continuità, ho giocato. L'anno scorso a Sassuolo ho fatto poche presenze, anche se per me è stato un anno importantissimo. Penso che in B ancora devo trovare quella continuità e consacrarmi anche in Serie B per il mio futuro è importante, quindi sono ottimista, ho voglia di lavorare e penso che qui sia la piazza più giusta. Sicuramente a livello tecnico, anche fisico, mi sembra una squadra molto valida. Io l'anno scorso ho giocato nella prima in classifica e penso che questa non è veramente da meno. L'importante è sempre che si crei un gruppo giusto, l'ambiente giusto, l'hanno dato l'anno scorso, penso che veramente è la cosa più importante. Il gruppo, l'unità, la voglia di lavorare la settimana, impegnarsi al massimo, quello ti fa arrivare la domenica che stai bene e con la testa giusta. Sono un terzino, mi piace spingere quando posso, mi piace andare al cross, è ovvio che ho 21 anni, penso che anche con un trentenne c'è sempre da migliorare, devo migliorare su tutto. Penso che non ho né un punto debole né un punto di forza, devo un po' migliorare su tutto, anche appunto forse a volte è la continuità che ti dà più sicurezza e ti fa andare sempre meglio. Grazie.